Musica Giovedì 9 febbraio, buongiorno a tutti voi, bentrovati con la nostra rassegna stampa. In apertura il maltempo sulla regione Molise, ieri è tornata la neve in molti comuni, questa mattina il pericolo era però il ghiaccio con temperature sotto lo zero. Diversi comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole, che andiamo a leggere, Casa Calenda, Torella del Sagno, Frosolone, Bonefro, Larino, Matrice, Montorio Nefrentani, Morrone del Sagno, Petrella di Fernina, Ripa Bottoni, Ripa Limosani, Sant'Elia, Appianisi e Trivento, questo l'elenco delle scuole chiuse. Ed ora l'aggiornamento sulla situazione contagi in regione, con l'aiuto della grafica diamo uno sguardo ai dati dell'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale. Non ci sono decessi, nessun ricovero, zero i dimessi, zero anche i trasferimenti. Gli attualmente ricoverati al Cardarelli di Campobasso scendono a 1, quindi c'è un solo degente al Cardarelli. I nuovi positivi 4, zero ai tamponi molecolari, 4 agli antigenici, tasso di positività dell'1,6%, 5 guariti, 1.225 i molisani attualmente alle prese con il virus. Ed ora i quotidiani locali, iniziamo come sempre dal primo piano Molise, si parla di livelli essenziali di assistenza all'area ospedaliera. Fa acqua da tutte le parti, questo è il titolo di oggi. Il Ministro della Salute rende noto l'ultimo report sui livelli essenziali di assistenza, circa 20 punti sotto la sufficienza. Il Molise 41,94, chiude la classifica guidata dalla provincia di Trento con 93,07. Prevenzione distrettuale, poco oltre la soglia minima di adempienza, enorme il divario con le regioni del nord. L'intervista, radioterapia, la Lilt rompe il silenzio, danno irreparabile. Pietracupa, budget e restrizioni per gli oncologi, vergognoso. Nel 2021, 16enne perse la vita in un incidente auto, più di quattro anni e mezzo all'amico che guidava. Coro di no, DDL autonomia differenziata, pure gli industriali si schierano contro. Piano de Menze, Toma firma il decreto, Isernia, Palazzo dei Baggis ospiterà il centro Alzheimer. E si parla anche di Sanremo, tra sacro e profano, il festival raccontato da Don Adriano Cifelli. Poi il trasporto pubblico, punto e a capo, annullato il bando, il Tar accoglie le eccezioni sollevate dall'ATM. Non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire, dice l'azienda. Nel taglio basso, occasione eccezionale, marchio del patrimonio europeo. San Vincenzo al Volturno in finale, il complesso monastico in competizione con Sant'Anna di Stazzema. Il punto di oggi è a firma Sergio Genovese, scuola, lo show si è concluso. E poi lo sport, campo basso, la società lancia i mini abbonamenti per Boiano e San Buceto. Calcio giovanile, Lisernia, San Leucio, riconosciuta, scuola calcio, elite. E infine, promozione, ripa Vairano, sospesa per neve sull'1-1, si riprenderà dal minuto 65. Lasciamo primo piano Molise e ci spostiamo ora in Abruzzo con i titoli del centro. Lotta al bullismo, arrestato a 16 anni, siamo a Pescara, picchia un ragazzino per 20 euro, mentre gli amici filmano la scena. Truffa milionaria col super bonus, arresti e sequestri, anche in Abruzzo, Teramo l'inchiesta. Turchia, 12 mila morti, parlano i tre abruzzesi, che dicono stiamo tornando, caccia, lo stop da domani, il WWF dice ora nuove regole. Il bilancio dell'Inps, in un anno in Abruzzo, oltre 15 mila pensionati. Proseguiamo ora con il messaggero Abruzzo. Anche qui c'è il caso del baby bullo, che finisce in carcere a Pescara, un 16enne, per vendicare un'offesa ad amici, picchia ragazzo di 14 anni e pretende del denaro. L'aggressione viene filmata, nessuno interviene. L'aggressione filmata è poi diffusa sui social. Oggi l'addio ad Andrea e i due figli, presto un film sulla vita dell'atleta, la strage sulla 14. Rientrati tre abruzzesi, scampati al cataclisma, le prime parole all'atterraggio a Fiumicino, ieri sera dopo il volo partito da Istanbul. E c'è anche Sanremo, regia pescarese per il volo della Cuccarini, la coreografa Elena D'Amario prepara la showgirl. E poi, dati dell'Istat, la fuga verso l'estero di giovani e pensionati. E dai quotidiani locali passiamo adesso alle notizie della stampa nazionale, iniziando come sempre dai titoli di oggi del Corriere della Sera. Salvini Amadeus è un festival ad alta tensione. Vediamo perché. Il ministro, la carta non va difesa lì, la replica guardi alto, altro bufera su blanco che si scusa e vola. Lo Cher intervista invece alla russa che dice è giusto parlare di Costituzione. E poi il terremoto con oltre 12.000 vittime si scava ancora, i soccorsi e le proteste, Erdogan blocca Twitter. Sia la proroga sui balneari, medici di base, via 72 anni, c'è il decreto, la pensione posticipata anche per i pediatri. Dal Corriere della Sera, i titoli della Repubblica. Vertice senza l'Italia. Titola oggi La Repubblica, muri antimigranti in Europa, la Meloni dà il via libera, missione del presidente ucraino che vola a Londra. Poi cena all'Eliseo con gli alleati per chiedere l'invio di jet. La nostra Premier lo incontrerà solo oggi a Bruxelles, a margine dei lavori del Consiglio europeo. Incontro a Parigi tra Zelensky, Macron e Scholz. Ascolti record, con il 62,4% di share, ieri la seconda serata, Salvini ironizza su Mattarella, sbagliato portare la Costituzione a Sanremo. E poi le proteste in Turchia, dove Erdogan blocca Twitter, terremoto 12.000 le vittime fino a questo momento. E poi lo sport, sci, ragazze d'oro, Marta Bassino vince il Super G. Ed ora proseguiamo con i titoli del messaggero. Dove troviamo il PNRR. Pochi tecnici. Questo mina il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Allarme di Cnelle e Banca Italia. Pesano calo demografico e mancanza di specializzazione. L'Unione Europea agli aiuti di Stato. Più flessibilità sui fondi. Migranti, riconosciuto il ruolo italiano. Lavoro agile, svolta nel mille proroghe. Stop allo smart working per i fragili. E il canone Rai esce dalla bolletta. Vertice con Re Carlo, Macron e Scholz. Mosca, così l'Europa rischia. Zelensky a Londra e Parigi per i jet. E oggi a Bruxelles incontra. Meloni. Coltelli a termini. Torna la paura. Un uomo in fin di vita dopo il caso Abigail. Rapina cruenta, un 46enne per un cellulare e 20 euro. Arrestati tre marocchini. E leggiamo quest'ultima notizia. I devoti di Trevignano. Il caso in procura. Pregano la Madonna ma in divieto di sosta. Guerra con i guardi a parco. E lasciamo anche il quotidiano Il Messaggero per leggere insieme adesso i titoli del tempo. Tempo che parla di ospedali. Ospedali dimenticati per la precisione. Eredità di Zingaretti. La relazione di Corte dei Conti segnala mancanze e ritardi della regione sui lavori. Rimasto inutilizzato oltre un miliardo destinato all'edilizia sanitaria. Rocca all'attacco di Damato. Fermi fondi per Umberto I che ora cade a pezzi. E poi la foto. Vedete l'incontro tra Zelensky e Re Carlo. Zelensky a Londra per chiedere jet. Oggi però incontra Meloni a Bruxelles. Dai titoli del tempo a quelli della verità. Resergio si è preso il festival per comandare l'opposizione. La mossa politica del Quirinale. Dietro la manfrina della pedagogia costituzionale il messaggio chiaro. Mattarella occupa il vuoto di un PD in disarmo. Domina la TV pubblica a dispetto del CDA. E blinda la carta contro il presidenzialismo di Meloni e compagni. E poi cospito non molla la battaglia del 41 bis. Ora passa dall'ex capo di gabinetto di Orlando. Dietro le quinte la trattativa a Stato Sanremo e l'imbarazzo per l'indagato. Proseguiamo con il manifesto. La scossa del sultano. Vediamo in foto Erdogan che si è recato sulle macerie. Ormai 12.000 vittime del sisma in Anatolia. Erdogan si presenta sulle macerie e chiede unità ma blocca i social. Ha resistito a crisi, inflazione e corruzione ma le case che crollano in un istante lo mettono davvero in difficoltà. Cresce la rabbia dei turchi e dei siriani. Mille proroghe. Destra ingolfata, braccio di ferro sui balneari. Poi i fratelli d'Italia cede, ennesimo rinvio. Niente intesa invece sulla benzina. Ed ora il fatto quotidiano. Meloni e Crosetto. Rinascimento perfetto. Titola oggi il fatto quotidiano. Bin Salman, telefonata tra la Premier e il principe killer. Ministro nel Golfo. Trattative su energia e mega commessa di 48 caccia Eurofighter Leonardo al regime delle stragi in Yemen. Gasdotti sabotati. Accuse agli USA. Zelensky è in tournée tra Londra, Parigi e Bruxelles. Dateci tank e anche aerei di combattimento. Dice il presidente dell'Ucraina. Ed ora le notizie economiche del Sole 24 Ore. Nel 2023 una rivoluzione fiscale. Più titoli di Stato detenuti dagli italiani. Il presidente del Consiglio ha tutto campo. Questo sarà l'anno delle grandi riforme. Proseguire nella riduzione del cuneo e superare il reddito di cittadinanza. Mettere a sicuro il rebito dagli shock e ridurre la dipendenza dall'estero. Balneari e gare. C'è il rinvio di un anno dal disegno di legge mille proroghe. Ricetta elettronica per tutto il 2024. Pensione volontaria a 72 anni per i medici di base. Ed ora lo sport con i titoli della Gazzetta. Dello sport dove c'è il Milan. Il flop di De Ketteler fuori gioco. Il belga ancora a secco e sempre più ai margini con il nuovo modulo avrà ancora meno spazio. E poi sì a Lukaku ma scontato. L'Inter ha deciso di tenerlo presto vertice con il Chelsea. E infine la gioia per lo sci bassino mondiale. Il super G è d'oro. La Schiffrin si inchina la gioia. E però purtroppo diamo anche questa notizia. Il dolore addio ad Elena Franchini. Leonessa sugli sci. E nella malattia. E con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa. Non prima di aver dato uno sguardo al palinsesto di questo giovedì. Che vede alle ore 11 Molise Sport. A seguire camminando Molise. Italia Economia alle 13.45. Poi TG News. E poi il docufilm Mafia e Religione. Ore 18. 19.30 seconda edizione del nostro telegiornale. A seguire Conto alla rovescia. Ore 21.00 e ore 23.00. Come sempre ultima edizione del nostro telegiornale. Ed è davvero tutto. Grazie per averci seguito. Restate con noi. Arrivederci.